Terminato il percorso formativo con la Rubino Immobiliare, devo dire una cosa importante, vedere ancora oggi imprenditori che sono attenti al mondo della formazione, per me che mi occupo di formazione, diventa di fondamentale importanza, perché oggi siamo in un mondo nel quale ci arrivano migliaia di messaggi al secondo, migliaia di informazioni al secondo e noi dobbiamo essere in grado di distinguerci. Qual è lo strumento per potersi distinguere? La comunicazione efficace è strategica. Io dico sempre una cosa, esistono comportamenti che oggettivamente sono più efficaci di altri, il problema qual è? È che molte persone non sono consapevoli dei propri comportamenti e non sono consapevoli del risultato che raggiungono i propri comportamenti, quindi che cosa succede? Dobbiamo cambiare, evidentemente, il problema qual è? Che se non ho comportamenti alternativi non sono in grado di cambiare, tendo a ripetere sempre le stesse cose e magari a non ottenere il mio obiettivo. Quello che abbiamo affrontato oggi con la Rubino Immobiliare è proprio questo, l'importanza di essere consapevoli dei propri comportamenti per mettere in atto i comportamenti più efficaci per raggiungere i propri obiettivi.